Il convoglio che trasportava il tram è partito da Strasburgo qualche giorno fa, ha attraversato il tunnel alpino del Monte Bianco sotto la neve e nella serata di domenica ha percorso l'autostrada fino al deposito del capolinea sud della Guizza. Si tratta del primo degli 11 mezzi che andranno a servire la linea Sir 3 dalla stazione a Volta Barozzo e a rafforzare l'attuale linea, il primo dei quattro mezzi che verranno consegnati a cadenza bimestrale. Siamo molto contenti perché il progetto sta andando avanti, da una parte andiamo avanti con la burocrazia che serve per arrivare all'appalto dei lavori che contiamo di pubblicare la gara fra qualche mese, nel frattempo è arrivato il primo mezzo, i prossimi mesi arriveranno anche le altre componentistiche per questo mezzo e nel corso di quest'anno arriveranno i primi quattro mezzi per la nuova linea, prima dell'avvio previsto per il 2023 arriveranno gli altri sette per un totale di 11. Nel caso in cui venissero accettati e approvati i nostri progetti dal Ministero dei Trasporti, Padova si doterà di una flotta di tram di circa almeno 60 mezzi con una rete che si estende come una linea metropolitana reggera di superficie.